Dopo i tributi ai Led Zeppeling e ai Pink Floyd, torna il nuovo spettacolo dell'orchestra Sinfonica Rossini che per l'occasione calcherà il palco della BCC Arena di Fano. Questa volta il concerto dedicato a Michael Jackson sarà incentrato sulla star che non a caso è stata definita il re del pop, lasciando un segno indelebile nella storia della musica ed entrando nel mito. Verranno proposti tutti i più grandi successi per un vero e proprio show in cui i brani, le proiezioni di immagini, la danza e la recitazione si fonderanno per creare un'emozionante magia. Eseguiremo 12 brani tra cui ad esempio Thriller, Billy Jim, Human Nature, Heal the World, Beat It, quindi tutti i più famosi, i più amati dagli spettatori e la cosa bella è che questo progetto è un vero progetto corale. Ci sarà quindi la parte sinfonica, la parte moderna, ci sarà un corpo di ballo, due cantanti, delle vocaliste, il tutto arrangiato e diretto dal grandissimo Roberto Molinelli. La voce recitante invece? Allora sì, questo progetto nasce sull'idea di Claudio Salvi che ha scritto i testi e sarà insieme a Giuseppe Esposto il conduttore della serata. Ci tengo a sottolineare le due voci solistiche che sono Clarissa Vichi che ha avuto un successo strepitoso adesso con il progetto che abbiamo fatto sui Beatles a Rocca Costanza Pesaro e poi Mattia Sciascia perché è il cantante del gruppo The Quivers che ha vinto una delle edizioni del Festival Giovani per la Musica che organizziamo e che compare in questi demo e quindi lo ritroveremo sicuramente nelle selezioni di X Factor. Sarà possibile acquistare i biglietti sia in pre-vendita che la sera stessa alla cooperativa Tre Ponti. Appuntamento quindi a venerdì 27 luglio all'Arena BCC, ricordo il prezzo dei biglietti, Platea 17 intero e 15 ridotto, Gradoni 12 e ridotto 10.